Questo ragazzi è il mio gioco Pokémon preferito, e non è un segreto, lo sapete benissimo se mi conoscete. E nel video di oggi voglio parlarvi del perché più ami questo gioco e del perché mi facciano cagare i nuovi giochi Pokémon. E premettendo che i gusti sono gusti e c'è a chi piace mangiare la merda, iniziamo. Punto numero uno me ne sono scritti, la lentezza dei nuovi giochi. Qualche tempo fa, all'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, io ho deciso di giocarli in una delle mie solite live di Twitch. Sono live serali, circa tre ore. In tre ore in genere riesci bene o male già a immergerti nel gameplay di un gioco. Ma non su Pokémon Violetto. Perché io, dopo tre ore di gioco, avevo i Pokémon livello 9 e avevo appena finito il tutorial. E pensate che a contrario di me, che bene o male ho tirato abbastanza dritto, altri streamer come Seidoni e Dario Moccia ce ne ha messe molte di più perché a contrario di me hanno deciso di esplorare la vuotezza della mappa iniziale di Pokémon Violetto. Io mi chiedo, com'è possibile che in un gioco nel 2022, ai livelli di Pokémon, si perdano le prime tre ore di gameplay a fare dialoghi? Dialoghi, dialoghi! Per me è inaccettabile. Io ho notato che col passare delle generazioni, la fase iniziale, diciamo di introduzione al gioco, si è sempre allungata. Per arrivare a questa merda di Scarlatto e Violetto, dove la fase iniziale sembra letteralmente infinita. Arrivando al punto dove sembra che il gioco stesso ti porti in giro in carrozzina perché sei incapace di muoverti in un environment da solo. Cioè, io voglio capire come siamo arrivati a questo punto. E qualcuno potrebbe dire, Fiorik, ma è un gioco per bambini? E perché i primi giochi Pokémon perché erano per quarantenni? Certo che è un gioco per bambini, ma che bambini conoscete voi? I bambini non c'erano voglia di leggere 50 mila miliardi di righe di testo. Io da piccolo schippavo tutti i dialoghi, mi fregava un cazzo, volevo soltanto giocare. Quindi perché allungare ancora di più questa tortura di lettura di dialoghi, di accompagnamenti e di cazzi inutili? Letteralmente siamo arrivati al punto in cui uno potrebbe giocarci ad occhi chiusi a un gioco Pokémon. Se ovviamente esistesse il doppiaggio, ma essendo una small indie company, ci sta che non abbiano i soldi per dei doppiatori. E poi mi dovete spiegare una cosa. Ma perché dopo trent'anni mi devi ancora spiegare come cazzo si lancia una Pokéball? Basta! Vi prego, mettetemi qualcosa per poter schippare la parte iniziale di un gioco. In tanti altri videogiochi c'è il tasto per schippare il tutorial. A maggior ragione se tu ci stai rigiocando la seconda, la terza, la quinta volta. Mettetevi qualcosa per schippare il tutorial. Ho 26 anni, non ho più voglia di imparare come si catturano i Pokémon. Basta! Punto numero due, lo so che qualcuno è già pronto lì con la tastiera e direi Non è importante, non è importante. Ma la grafica fa schifo. E quando io voglio paragonare un gioco come Scarlatto e Violetto che vuole essere Zelda Breath of the Wild versione Pokémon, io ovviamente gli rompo i coglioni per la grafica perché fa cagare. E lo so bene che anche i primi giochi Pokémon erano indietro a livello grafico rispetto agli altri giochi dell'epoca. Ma quello che io mi sento di dire è che quando i giochi Pokémon erano 2D e non 3D, avevano una grafica che era tutta loro, avevano uno stile che era loro. Come dire, la grafica di Minecraft. Tu non puoi paragonare la grafica di Minecraft ad altri giochi perché la grafica di Minecraft è proprio un concetto a parte, è una cosa esclusiva che ha soltanto Minecraft e che rende Minecraft ciò che è. E secondo me gli artwork di Pokémon, le animazioni anche magari un po' primordiali che avevano le mosse, erano caratteristiche dei giochi Pokémon. E quindi ti risbattevi il cazzo se magari c'erano giochi con grafica e animazioni più belle. Mentre quando c'è stato il passaggio da 2D a 3D dei giochi Pokémon, lì si è persa praticamente la caratteristica principale che era nei giochi Pokémon, che aveva lo stile grafico dei giochi Pokémon. Ovvero gli artwork, ovvero le animazioni. E quindi quando tu fai il gioco open world per una piattaforma, io ho tutto il diritto di paragonarlo ad altri giochi open world della stessa piattaforma, che tra parentesi sono usciti quasi sei anni prima. Ora invece voglio parlare un attimo della difficoltà del gioco. Allora, quanti videogiochi esistono al mondo dove a inizio partita puoi selezionare la difficoltà? Vogliamo contarli? Perché su Pokémon non c'è questa cosa? Perché hanno fatto un singolo tentativo con nero e bianco 2 e poi poi hanno deciso che, bah, non importava. E perché la difficoltà di base dei giochi stessi si è così tanto appiattita? E qualcuno potrebbe dire, ma perché è un gioco per bambini? Lo è sempre stato, è sempre stato un gioco per bambini. Perché i bambini di oggi dovrebbero essere più handicapaci di quelli di una volta? Io questa cosa non la capisco. Se io mi medesimo in me versione bambino, gradirei dovermi sforzare per ottenere qualcosa. Nei giochi Pokémon tu impersonifichi un allenatore di Pokémon. Quindi, che cazzo di allenatore sei se non li alleni poi i Pokémon? Ad oggi, letteralmente, tu puoi avviare una run, fottendotene letteralmente di qualsiasi cosa, di battere selvatici, battere allenatori, tirare dritto e farcela. Mentre il concetto stesso di allenatore di Pokémon dovrebbe essere, cazzo, io ho tirato dritto, il capo palestra mi fa un culo così. Perché lui è il cazzo di capo palestra, ma come puoi battere senza allenarti un minimo? Quale dovrebbe essere la base di questo concetto? Battere i capo palestra senza allenarti. Tu sei sempre più forte, anche se ti eri dritto, sempre con lo stesso Pokémon che over-livella tutti gli altri 50 livelli e poi tutta la squadra, perché tanto tutta la squadra prende esperienza. E tu puoi battere tutti tranquillamente, c'è sempre il tuo team livellato, sei sempre a posto e sei sempre alla pari di capo palestra che magari, concettualmente, magari ci ha messo, non lo so, 20 anni, 30 anni per arrivare a dove stanno. Io non sto dicendo che fosse divertente grendare nella stessa zona di mappa per mezz'ora o un'ora di fila contro gli stessi Pokémon per far guadagnare due o tre livelli alla tua squadra e battere il capo palestra. Però allo stesso tempo viene snaturato il concetto di allenatore se poi tu puoi vincere il gioco senza allenarti. E non sto parlando di giocatori esperti come, non so, gli speedrunner che tirano dritto con un singolo Pokémon under-livellato e riescono a battere il gioco in due ore. No, parlo dell'utente medio che così dal nulla riesce senza un minimo impegno a battere il gioco. Ma è un po' triste, non trovate? E poi come ultimo punto mi chiedo perché tutti i giochi Pokémon devono avere sempre la stessa struttura. Mi riferisco ovviamente alla serie principale. Tu sei il bambino che esci di casa, la mamma... Stai attento! Poi arriva al tizio che c'ha tre Pokémon che casualmente sono sempre fuoco e erbacqua e ti dice Ma sai cosa? Oggi per qualche scuro motivo ho deciso di regalartene uno, scegli tu, è quello che ti pare ma gli altri no. E poi c'ha il rivale che ti porta in giro come il nero di quasi amici, lì in carrozzina perché ti deve insegnare a camminare, ti deve insegnare a guardare, a parlare, a catturare i Pokémon, ti regala gli oggetti perché boh, non lo so, è Babbo Natale. E poi sai ci sono le otto palestre e tu devi battere le otto palestre. E poi boh c'è un team nemico che per qualche motivo ce l'ha con te. E tu devi battere questo team nemico ma i team nemici ovviamente sono ammosciati nel tempo. Cioè una volta c'erano quelli che rubavano i Pokémon per vendergli le mafia e poi c'avevi quelli che volevano, non so, far esplodere il mondo per qualche motivo. Cioè non sto dicendo che fosse così, perché il team nemico deve voler far esplodere il mondo? C'era il team idro che voleva allagarlo, il team magma che invece voleva ricoprirlo di terra e poi nella quarta generazione volevano boh far esplodere il mondo che era un altro universo. Ma come siamo arrivati al club degli sfigati della nona generazione? Oppure gli ultra dell'ottava generazione che, non lo so, devono fare il tifo per la loro beniamina e per qualche motivo devono battersi con te. Cioè gli stai sul cazzo, tu devi morire. E soprattutto perché ci deve sempre essere questo team nemico? Questo non concepisco io. Perché non ci può essere magari, non lo so, un rivale veramente forte che anziché essere tuo amico magari gli stai proprio sul cazzo e soprattutto, non lo so, vedete sta dinamica? Tu c'è un rivale che ha i Pokémon al 50, c'è una sfida in early game dove tu becchi sto rivale e ti fa il culo perché dici cazzo sei più deboli di me e proprio non puoi vincere in nessun modo e magari il concetto del gioco è migliorare per poter arrivare a questo rivale e abbatterlo non che il rivale è sempre una merda. Non lo so ragazzi, forse sto invecchiando, forse questo è il classico video da Boomer che diceva eh una volta le cose erano meglio, no? Come anche Yu-Gi-Oh, la differenza tra Yu-Gi-Oh vecchio e quello nuovo magari potrei parlare in un nuovo video. Però questi banalmente sono i motivi per cui mi fanno cagare i nuovi giochi Pokémon e purtroppo i giochi Pokémon non faranno mai un passo indietro perché tanto tu senti il tuo amico che gli chiedi ma com'è il nuovo gioco Pokémon? Ah, fa cagare, però intanto l'ha giocato. E allora? Penso che ormai Pokémon sia talmente impattante come titolo, come nome in generale, che possono letteralmente fare qualsiasi cosa, far uscire un gioco in cui non c'è niente, niente, la gente lo comperebbe lo stesso solo perché c'è poco in dire ma chissà se fa schifo. Poi ci sarebbero altre mille cose da parlare tipo la meccanica di ogni generazione per rendere il tuo Pokémon più sbroccato degli altri tipo la Mega Evoluzione, la Mossa Z, la Dynamax. Com'è che si chiama questa? La Terra Cristallizzazione dove diventano prevente dei soprammobili Pokémon. Vabbè, quella lì può piacere, può non piacere, poi il Competitive, Fieric, il Compet... Ma che cazzo? Ma il Competitive è una nicchia, ci dovrebbe essere la gente che interessa il Competitive e la gente che interessa il Gameplay perché deve essere tutto basato sul Competitive. Anche questa cosa qua che la gente dice ma tanto è basato sul Competitive. Sì, ma c'è anche altro nei giochi Pokémon, c'è solo il Competitive. E niente ragazzi, il video è finito, fatemi sapere la vostra nei commenti, mi interessa molto la vostra opinione e io continuerò a giocare il mio Pokémon Smeraldo, nonché giochi vecchi, a incorsare le braccia dietro la schiena per guardare i cantieri. Ci vi chiamo in live. Bella.